Ciao amici di Now, siamo tornati per fare un po' di combat, diciamo quante amiamo combat, dai, è divertente, ti scarica lo stress e ci fa divertire. Ok, portiamoci in guardia destra e portami in avanti e indietro, vai vai, avanti e indietro. Aggiorniamo le tesi, raccogliamo il pensiero, buttiamo tutti i pensieri, quelli che non ci servono durante l'allenamento, fuori dalla porta, entriamo dentro il nostro corpo e concentriamo che ogni colpo è lo stesso punto, ok? Jab, cross, però colpisco lo stesso identico punto in mezzo al mio mondo. Vado, 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 ancora, gomiti rimangono belli tesi, belli tesi, belli stretti, ancora. Continuiamo soltanto di scioltezza per aiutarci a riscaldare. Cambiamo lato, grazie, e avanti e indietro, aggiamminare i tesi, gomiti tesi e allungo, allargo o sciolgo con le spalle, ok? Così li allontano dalle mie orecchie, ancora, andiamo lentamente, jab, cross, jab, cross, ancora, jab, cross e jab. Ancora, lento, lento, colpisco sempre lo stesso punto, 4, 3, 2, velocità, vado, vado, colpendo sempre lo stesso, concentrati, portati soltanto qua dentro, lascia la lista della spesa fuori e quella che devi fare per 4 minuti, solo adesso ti stai allenando con la gira, centro, andiamo, jumping jack. E chiudo, ma uso la corda simulata, ancora, respira, stiamo soltanto riscaldandoci, ok? E chiudo, ancora, dammi in 4, 4, chiudo, 4, apro, 4, gomiti stretti, muovo solo i polsi, e vedrai che magari se volete provare con una corda vera, dopo diventa più facile, dopo che ti sei allenata con la gira. 2, ancora, 2, ancora, 2, ancora, continuiamo, 4 ancora, 3 ancora, ok? Ok, rimaniamo qua, andiamo a fare un gancio, destra, scendo, sinistra, scendo, destra, scendo, sinistra, di fronte il petto, colpisco, colpisco, ok? Colpisco, occhio, più veloce, andiamo, 1, 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, montante, andiamo, su, 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 ancora, su, su, poco, gomiti rimangono sempre vicino il torso, up, 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 ancora, 4, 3, 2, dammi ganci, 7, 6, 5, 4, 3, monta, montante, 8, 7, ok? Siete pronti per andare il ritmo ancora più veloce, più fluido 8 e monta vado respira proprio entro sulla ritmiticità ok? è ritmogenico il nostro combat diamo 4-4 4 e in 4 ancora 4 e in 4 ancora 4 4 ancora 4 occhio dammi 2 1-2 scendo su-su-giù e in giù su-su-giù su-su scendo-scendo su-su-scendo-scendo su-su ultima 4-3-2 ok andiamo in guardia eccellente ragazzi siamo in guardia siamo pronti? cominciamo con la prima sequenza bello semplice facciamo cross jab cross jab and torso twist ok? di nuovo cross jab cross jab twist 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 cross jab cross jab rimango ok? andiamo più veloce 1-2-3-4 twist 1-2-3-4 rimango di nuovo cross jab twist occhio cross jab e in giro occhio di nuovo cross jab twist ancora cross jab rimango yeah ancora cross jab twist giù ancora cross jab e in cambio di nuovo questa andiamo cross cross jab torso twist cross jab salta cross cross jab twist cross jab gira hip ancora cross jab twist cross jab rimango cura cross jab twist and cross jab turn in centro occhio jumping jack andiamo 2-2-2 singoli apro chiudo ancora 2-2-2 singoli e apro ancora 2 volte 2-2-2-2 singolo apro chiudo ancora una volta 2 tutto da capo siamo pronti preparate da destra in avanti con cross jab oh cross jab torso twist su cross jab rimango salto and cross jab torso twist and cross jab giro ancora cross cross jab twist vai vai cross cross rimango cross cross twist occhio cambio lato cross 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 jac torso twist and cross jac rimango cross twist cambio lato andiamo cross cross twist vai vai cross rimango yeah and cross, twist, hip, 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 and cross, turn in centro, jumping jack, doppio, poi singoli, doppio, singolo, doppio, singolo, doppio, doppio, singolo, ancora uno, doppio, singolo, ok, ci siamo, occhio, uno, due, tre, rimango, uno, due, tre, hip, hip, uno, due, tre, rimango, uno, due, aggiungiamo il piede, ok, uno, due, tre, hip, hip, uno, due, tre, ancora, uno, due, tre, hip, hip, uno, due, tre, mi dai singoli, uno, due, tre, ci siamo? Ci siamo? Non mi sento ancora? Eight, seven, facciamo veloce in tre, ok, ok, eccoci qua, andiamo, facciamo, tre, due, uno, hip, hip, tre, due, uno, singoli, hip, 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 quattro, tre, two, one, ancora, tre, due, uno, hip, 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 three, due, uno, singoli, hip, hip, vocalizza se ti va bene, ok, tutto da capo con cross jab, siamo, guardia destra, un, due, and twist, keep it going, cross jab, rimango, qui, cross, cross jab, twist, cross jab, gira, gira, cross, and cross jab, twist, Ancora cross jab, rimango, hip, 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 cross jab, twist, e pronti per girare? Ci siamo? Di nuovo, cross jab, twist, cross jab, rimango, yeah, cross jab, twist, hip, 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 cross jab, cambio lato, di nuovo, cross jab, twist, twist, qua, yeah, yeah, e rimango, qui, hip, hip, ancora, cross jab, twist, yeah, eccoci qua, torno in centro, jumping jack, doppio, doppio, singolo, uso le gambe, doppio, singolo, ancora, doppio, singolo, ultimo doppio, doppio, singolo, Qui, per tre, hip, 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 hey, 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 dammi singoli, hip, 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 pugna, come on, mina, dammi tre, tre, due, uno, hip, tre, due, uno, hip, dammi singoli, 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 singoli ancora, Ora 4, 3, 2, rimango qua, come va ragazzi? Ci siamo? Ok, appoggiate la gamba sinistra indietro, non salta più, rimane fissa, 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 ci siamo e mi date, ok, carico, 2, 3, stop, carico, 2, 3, stop, carico, guarda i piedi sotto, non salta, non c'è salti, Ok, spingo, occhio, cross, 3, 2, 1, cross, 3, 2, 1, cross, 3, 2, doppio, cross, 2, 1 e cambia, dammi 3, 3, 2, 1, questo è il primo, poi ancora 1, ci siamo, vai, doppio cross, 2, 3, doppio cross, Due ginocchia, cambio, qui, di nuovo, 2, singolo, cross, seconda volta, singolo cross, singolo, cross, doppio cross, occhio, up, and, due ginocchia, cambio, 3, carico, 2, singolo cross, 1, 2, singolo cross, Cross, hit, 3, doppio cross, 2 volte, up, up, 2, 1, centro, slalom, ok, la facciamo tutto dall'inizio ragazzi, ve la sentite, grande allenamento, prepariamoci, guardia destra, cross jab con twist, it's 5, 6, andiamo, cross jab, twist, Vai, 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 cross jab, rimango, e, ancora, cross jab, twist, giù, 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 Cross jab, twist. Ancora questo ragazzi. Cross jab, cambia. Come on, come on. Twist. Cross jab in mango. Cross, cross jab, twist. Ancora pronti per cambiolare. Lato, vai. Cross, cross jab, twist. Ancora cross jab in mango. Cross, cross jab, twist. Pronti per il jumping jack. Siete pronti? Torno in centro. Doppio jumping out per single. Doppio, singolo, apro e chiudo. Doppio, singolo, apro e chiudo. Doppio, singolo, apro e chiudo. Corno, dobbio, singolo, qui. Tre, tre, due, uno. Tre, due, uno. Singoli. Due, tre, quattro, cinque, sette, sette, tre, tre, due, uno. Hup, hup, tre, due, singoli. Come on, come on. And punch, punch, punch. Come on. Pronti con le ginocchia, pronti con le ginocchia. Dammi, tre, cross, singolo. Hup, tre, due, uno. Guarda il ginocchio, non. Doppio, cross. Vai. Due ginocchia, cambio. Occhio. Dammi, tre, singolo. Guarda le gambe, non salto. Hup, uno, due, singolo. Hup, doppio. Siamo pronti? Doppio. Pam, pam, due, gira. Come on. Andiamo. Uno, tre, due, singolo. Hup, tre, due, green toes. Hup, tre, doppio. Uno, hup, hup, due, uno. Gira. Tre, uno, due, tre. Hup, and uno, due, tre. Hup, good. Uno, due, doppio. Hup, hup, tutto da capo. Ci siamo. Cross. Un, due, twist. Un, due, twist. Rimango. Cross jab. Un, due, twist. Ci siamo. Cross jab. Gira. Andiamo. Cross. Un, due, twist. Giù, giù. Ancora cross jab. Rimango. Cross jab. Twist. Hup, 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 hup. Pronti. Cross jab. Giro. Ancora questa. Andiamo. And cross jab. Twist. Hup, ancora. Cross jab. Rimango. Hup. Di nuovo. Cross jab. Twist. Qua, qua. Ci siamo. Cross jab. Gira. Ancora. Demi cross. Cross jab. Twist. Vai, 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 vai. Cross jab. Rimango. Qua. Punch. Cross jab. Twist. Vai, 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 vai. Cross jab. Torno centro. Jumping jack. Doppio. Doppio. Singolo. Con cattiveria. Doppio. Singolo. Come on. Doppio. Singolo. Vai, 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 vai. Doppio. Singolo. Vai. Di qua. 3, 2, 1. Hup, hup. 3, 2, 1. Singoli. E hup, 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 hup. Ancora questa. Ci siamo. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Colpisco. 3, 2, 1. Colpisco. 2 questa volta. Ci siamo. 2, 2, 2 genocchio. Cambio. Come on. 3, 2, 1. Hup. 3, 2, 1. Hup. Diventano 2. 1. Doppio. Hup, hup. Ginocchio. Ginocchio. Giro. Di nuovo. 3, 2. Colpisco. Bam. 3, 2, 1. Bam. 3, 2, 2. Doppio. Doppio. Bam. Bam. 2, 1. Cambio. Di nuovo. 3, 2, 1. Colpisco. 3, 2, 1. Colpisco. 3, 2. Doppio. Vai, vai. 2, 1. Stop. Braccio di fronte a voi. Destra. Tai Chi. Ok. Apra. Apra. And. Apri. Cora. 4. Guarda con controllo con la coda dell'occhio. Che non si aprono più delle spalle. Più veloce. Vado. 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 Ancora. 4. 3. Ci siamo. Ok. Per tonificare. Lavorare. 5. 6. 7. Veloce. Vado. Vai. Tira la braccia. Tira la braccia. Tira. 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 Ancora. Ancora. 8. 7. 6. 5. 4. Ancora 2. 8. Poi andremo su i ganci. 8. 8. Vai. Vai. 4. 3. 2. Ultimo 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Pronti per i ganci? Andiamo. 8. Colpisci. Colpisci. Libre con le gambe. Così. Lascia che le piedi si alzano. Ok. Proteggi le ginocchia. Ancora. 4. 3. 2. Dammi altri 2. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ancora 8. 8. 7. 6. 5. Montante. Sta arrivando. Siamo pronti per 4. 8. Vai. Su. Ok. Mezzo busto. Gomiti stretti. Palmo verso il soffitto. Ancora. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ancora. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ancora. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ancora. Con le lunghe la schiena domani. Vedrai quanto hai lavorato. Ottima. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Tira la fune. Tira la fune. Giro. 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 Gomiti stretti. Come stessi tirando una fune verso di me. Si chiama arco frontale. Tiro. 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 Siamo pronti? Ottima. 4. 8. Veloci. Vado. Vai. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ancora. 3. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Ancora. 2. 8. Ci siamo quasi ragazzi. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ultimo 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Relax. Eccellente. Bel lavoro che abbiamo fatto insieme sul nostro Super Jump Combat oggi. Sono super contenta che avete fatto questo allenamento carico di energia per i miei guerrieri. e vi aspetto insieme con il prossimo allenamento qui su Now. Passate una giornata fantastica. Ciao amici. Oggi vorrei lavorarti un po' le braccia e un po' l'interno coscio con il nostro pedale vibrante. Partiamo subito con il programma manuale. Ok? Manuale di qualunque pedale vibrante che hai. Perché dobbiamo cominciare sempre con potere 10 proprio per riscaldarci. Dopodiché aumenteremo man mano che andiamo avanti la nostra intensità. Riscaldamento bello tranquillo. Divarichiamo le nostre punte e divarichiamo anche le ginocchia che seguono il dito medio del piede. Ok? Perché proprio sono divaricate le ginocchia. Scendiamo e portiamo il bacino leggermente in avanti. Riscaldamento né più né meno né meno né più. Ok? L'altra cosa che molti pedale vibranti hanno, ok, sono gli elastici. Elastici lateralmente che vado a prendere, ok, per aiutarmi di avere un allenamento total body. Perché mentre sto tenendo la posizione, lasciando che le vibrazioni vanno a lavorare l'interno coscio, posso per esempio lavorare i bicipiti. Ok? Vado su e giù, ok? Aspetta un attimo. Corrego perché eccola là. Mi stai facendo rumore. Ok? Su e giù. Ok? L'elastico, come potete notare, è molto lungo. O corto, dipende ovviamente, ogni elastico è diverso. Qual è la giusta lunghezza dell'elastico? L'elastico è che mi sente con già il braccio semi-teso, ok? Il semi-teso, che sento l'elastico già in tiro, salgo e scendo, scendo con le gambe e lascio questo piccolo riscaldamento per la nostra interna coscia, ok? Punto di varicata. Ma il mio bacino sta sempre in avanti. Ancora, continuiamo. E in due, tre, quattro, cinque, sei, sette e lascio le braccia. Allora, quando noi cominciamo con le pedane vibranti, io vorrei che voi cresceste con l'attrezzo stesso. Perché molte persone cominciano a pensare che vogliono partire in quarta. La pedane è importante, la pedane è potente. Perché io ho scelto, con tutte le pedane che ho presentato, macchine molto, molto forti. Ok? Perché per avere i risultati servono a motore forte. Però non è necessario partire in quarta. Abbiamo tutto il tempo necessario adesso che è a casa tua per darvi i risultati. Ok? Porta le braccia dietro di me. Sempre le braccia subivaricate. Lascio la mia vibrazione di continuare e sollevo le braccia verso il soffitto. Continuiamo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora. Danni, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and relax. Appoggiate i, diciamo, i elastici a terra perché voglio aumentare adesso l'intensità del nostro motore. E sto passando da dieci a venti. Ok? Calcolando che la mia pedana vibrante, la mia pedana vibrante ha il massimo di trenta velocità. In pratica sono adesso due terzi della massima delle velocità. Non dovete essere matematici, non dovete essere troppo esagerati. Quello che vorrei che voi sentiste, ok, è due terzi della sua velocità. Più o meno, massimo o meno. Ok, alzate un talone, ok, mette la mano all'interno, dal genocchio in su e sente come si attiva l'interno coscia. Ok? Teniamolo. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, cambio. Occhio. Questa gamba, la sinistra, comunque ha i piedi leggermente in apertura, non completamente perché comunque dipende dall'assetto della tua pedana vibrante. E l'altro puntato e sollevato il talone, ok? Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e torniamo in centro. Ok? Piccolo piccolo sollevamento dei taloni. Ok? Se volete sentire ancora più solidi o più stabili, prendete l'elastico, cuoce l'elastico. Così, c'è una sorta di appoggio, ok, sulla vostra attrezza e concentrati su un punto di fronte a te. Porta il bacino in avanti, sollevo poco a poco i taloni, ok? Tenete una sorta di mezzo piede in prima, ok? Mi metto in prima, scendo, alzo i taloni e tengo la posizione. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, appoggio i taloni, appoggio i taloni, ok? Porta il bacino in avanti e sollevo poco a poco, fino a sentire proprio una contrazione all'interno dell'interno coscia, ok? Di nuovo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, riscendi, sollevo, mantieni. Ok, allora, per mantenere l'equilibrio, allora, o mi fissi proprio intensamente, o fissi un punto subito sotto il tuo visore, non sei televisore o quello che stai guardando al computer o quant'altro, perché per mantenere l'equilibrio serve di fissare un punto fisso. Ancora quattro, ancora tre, ancora due. Ricupero, poggio le gambe giù, porto una gamba fuori, ok? A questo punto, aumenta di nuovo la velocità. Andiamo su, il massimo della velocità, qualsiasi velocità, o se non te la senti di stare la massima della velocità, massimo che tolleri, ok? Adesso, porto la gamba in avanti, ok? Rimango sopra e proprio sono in una sorta di affondo, ma in apertura, perché il mio piede è verso il muro di lato, il mio ginocchio segue la punto medio, ho il dito medio del mio piede, appoggio sul talone, ancora quattro, ancora tre, ancora due. Ora, divarico anche l'altro e scende di più. Qua si sente tantissimo. Continuiamo, ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due. E sollevo, passo dall'altra parte. Senti il lavoro, eh? Lo so che si sente il lavoro. Continuiamo, troviamo. Il talone è parcheggiato, diciamo, sul lato più vicino al mio piede, ok? E faccio un affondo per prima, un affondo per prima, sto nel fondo, tengo la posizione, ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, scendo giù, scendi, 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 otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, in su. Siccome lo so che è tanto lavoro, piegatevi indietro la pedana, piegate le braccia, ti prego, ti prego, ti prego, non ti devi sentire la voce traballare, ok? E tieni semplicemente le mani sulle pedana, proprio né più né meno. Facciamo un bel minuto qua, un minuto sentirai anche il fornico lì o sulle braccia perché aumenta tantissimo il microcircolo. Eccellente perché tutte queste vibrazioni che state vedendo sono equivalenza di una contrazione muscolare che mi aiuta a contrare i muscoli, mi aiuta a tonificare, mi aiuta a drenare, mi aiuta anche la qualità della pelle perché tutto il microcircolo che viene attivato porta in superficie ossigeno, porta i nutrienti alla nostra pelle perché spesso la nostra pelle è strozzata dall'ossigeno perché deve fare ben altro, no? Aiutare gli organi interni, anche troppe tossine, comunque intossicano il corpo, allora il microcircolo sottocutaneo viene purtroppo ignorato dal corpo perché sta pensando a ben altro, no? Tipo le viscere, tipo le vostre organi interni vitali, ok? Dai, ancora, un'altra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torniamo su, eccellente ragazzi, stiamo facendo veramente un bel lavoro per il nostro interno coscio. Allora, siamo alla massima della potenza che tu tolleri, per me è la massima a 30, porto di nuovo, vedi, il bacino da dietro la porto in avanti, ok? Ok? Divarico poco a poco le punte, le ginocchia sono sempre seguendo le punte dei piedi, ok? È importante questo. E tieni proprio contratto, provi a immaginare un pallone da calcio che tu stai strisolando tra le cosce. Sollevati fino a senza sentire la vibrazione nella voce e trattieni questa contrazione ancora, dai, ancora. Abbiamo quasi finito il nostro allenamento, stiamo facendo un bel lavoro, abbiamo ancora due minuti di lavoro e non tutto, ma prettamente dedicato alle nostre interne cosce, un po' di braccia. Allora, ritorniamo di qua, andiamo di qua, poggiamo la gamba lì, andiamo un grand plie, teniamo la posizione, ok? Scendi, 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 dosando il tuo peso tra le gambe sulla pedana e l'altro che è lontano dalla pedana. Dai, continuiamo, ok? Perché è veramente un bel lavoro oggi per la nostra interna coscia. E su, passiamo dall'altra parte e ti posso garantire che senterai che stai lavorando. Sono contenta perché questo ci aiuta. Possiamo anche lasciare il braccio sopra la gamba per avere un doppio lavoro sia sul braccio che l'interna coscia. Continuiamo così, abbiamo quasi finito con il nostro allenamento, sono super contenta. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torni su, sono ottimissime secondi, ultime 30 secondi sulla pedana. Porta il bacino in avanti, tieni duro con i nostri glutei che vengono avanti per lavorare in interna coscia. Ottimo lavoro, sono molto contenta che stiamo ottenendo insieme e con la vibrazione. Come potete vedere, ogni atleta genico ha tante opportunità, tante opportunità per allenarci, per tenerci, non lo so, interessati nel nostro allenamento. Perché secondo me l'allenamento devi variare ogni giorno. Se tu fai tutti i giorni la stessa cosa, prima o poi ti annoierai. E qui a Now io spero di tenerti sollecitati, stimolati, motivati per allenarli tutti i giorni, diciamo, a sufficienza. Ok? Ecco, il nostro allenamento per l'interna coscia è finito qua. Ti aspetto al prossimo allenamento insieme, augurandoti una giornata spettacolare. Ok? E ci sentiamo presto. Baci dalla Gigi.